Se c'è una dote che distingue mai paura, associazione che in pochi anni è entrata di diritto nella quotidianità sociale ma anche nell'immaginario collettivo di Buster Sizio, è l'apparente disinvoltura con cui coordina, organizza, pratica la solidarietà. Nulla di ponderoso, nulla di retorico o serioso. Luminosa come il sorriso, vario pinta come il look della sua presidente Emy Bossi, dinamica come il passo svelto e le decisioni solerti del suo magnifico staff, mai paura in anella iniziative e progetti, conquiste e svolte con la leggerezza dei sognatori e il pragmatismo della concretezza. E così ecco sbocciare un calendario di appuntamenti accompagnati da ambiziosi traguardi. Venerdì 18 marzo al cinema Fratello Sole, una sorta di notte da Oscar presenterà tra l'altro il film dedicato al tour che i ragazzi di Mai Paura hanno vissuto nelle aziende del territorio, Rete 55 compresa. Siamo andati attività per attività con due ragazzi a girare delle scene. Sia i ragazzi che le attività erano estremamente liberi di fare ciò che volevano. Non abbiamo mai chiesto né a uno né all'altro di fare qualcosa di particolare. Quindi in questa piena libertà sono venuti fuori dei momenti alcuni esilaranti, alcuni decisamente emozionanti. Ma questa serata sarà solo l'inizio. L'11 aprile è in programma l'evento Senza Barriere, ospite Umberto Pellizzari. Tra luglio e settembre si tornerà a prendere il largo in barca a vela e poi a prendere il volo con Vanni Oddera e le sue rombanti acrobazie. Nel frattempo la sfida più grande ci attende al cospetto delle stelle di Gabri. Il riferimento è all'eredità del compianto amico Gabriele, al quale è intitolato il My Paura Camp in fase di allestimento in via Salvatore Rosa. Un'area verde messa a disposizione dall'amministrazione comunale e messa a nuovo dall'energia di volontari come Thomas Pisoni, Gian Piero Dario, Nino e Angelo Randazzo, insieme alla generosità di imprese e marchi storici che vogliono fare la propria parte. Per ultimare il progetto, che sarà davvero concluso quando i ragazzi potranno vivere il camp e ammirare i corpi celesti attraverso gli strumenti, lasciati da Gabriele, serve il contributo di tutti. Perciò fatevi avanti, ogni dettaglio